il berretto nero, i colori di Giuseppe Rossi e dovrebbe essere o quasi tutto pronto, si va agli ordini dello starter la Maiden al centro del programma dall'esterno Exchange, di dentro su Framonti, tra i due prendere o lasciare su Framonti prendere o lasciare Rich List, Cute Lady Exchange poi Minea davanti al traguardo per il passaggio su Framonti precede Cute Lady e prendere o lasciare Rich List Exchange poi Minea o Sotash in coda Rainflame attacco della prima curva su Framonti, il favorito che conduce su prendere o lasciare che avvicina Cute Lady di dentro Rich List, di fuori Exchange che precede Minea in coda, sono Rainflame di dentro e o Sotash, di fuori su Framonti prendere o lasciare Cute Lady Exchange non cambia niente, quattro coppie a metà della letta di fronte comandate da Sotash e prendere o lasciare che precedono Cute Lady Exchange Rich List Minea, Rainflame e o Sotash si attacca la curva intanto su Framonti prendere o lasciare Cute Lady Exchange Rich List, poi Minea o Sotash quando si entra addirittura prendere o lasciare e montare per andare su su Framonti che allunga dietro Cute Lady e montata così come Exchange dietro ai quattro Rich List Minea o Sotash in coda Rainflame su Framonti che prova a scappare a 400 metri da conclusione con il suo intempete che lo richiama maggiore impegno perché Exchange è in piena spinta al suo esterno su Framonti contro Exchange poi prendere o lasciare che precede Minea, Cute Lady, Rich List e o Sotash su Framonti contro Exchange testa a testa su Framonti di dentro lo scatto di Exchange per andare a prendere su Framonti lo scatto di Exchange che travolge il favorito più indietro sono in linea Minea e o Sotash la coppiata era preventivata ma non nell'ordine in cui sono arrivati Exchange batte su Framonti per la terza Minea e o Sotash vicini ma forse nell'ordine poker diendo botti da programma probabilmente il quartier generale di Scenaia che precede in toto quello di Pisa con Exchange su Framonti e poi Minea e o Sotash potrebbe essere questo un'idea di arrivo riguardante